Poi quando io ti devo allenare e non capisci quello che dico, è come succede? Grande mister! Buongiorno mister! Buongiorno, più dodici! Quando si recupera questa mattinata di sport, oggi... Non ci interessa! Poi quando io ti devo allenare e non capisci quello che dico e come si fa, è un altro palco. Tutto quelli che non cambiano in allenamento, ci sono due modi di fare sport, due modi di essere campioni, di pallone e di sport. Ci sono due sport fondamentali che è giocare a calcio e studiare. Anche studiare è un sport. Anche perché se giochi insieme a me, poi... Per giocare nel Napoli bisogna capire quello che si deve fare e dove si vuole andare. Per cui bisogna sapere...